Sono Marco Ciano, sono il direttore tecnico della Boviar, ci occupiamo di sistemi di controllo e monitoraggio per l'ingegneria civile. Oggi vi parlo di interferometri, una nuova tecnologia che in realtà è presente sul mercato da quasi 20 anni, ma negli ultimi anni ha iniziato prendere piede, in quanto è l'unico sistema capace di misurare spostamenti e vibrazioni a distanza senza dover mettere dei sensori sulle strutture che noi vogliamo controllare. Adesso partiamo con la presentazione. Quindi oggi vi parlerò dell'interfermetria terrestre a microonde per il controllo remoto di spostamenti e vibrazioni. Come vi ho detto, sono il direttore tecnico della Boviar, da 50 anni forniamo, progettiamo e produciamo sistemi di misura e monitoraggio per l'ingegneria civile, la geotecnica e la geologia. Il nostro punto di forza, oltre a quello di fornire sistemi di controllo, è quello anche di formare il personale. Perché oggi vi parlo di interferometria? Perché dal circa 2000 siamo i distributori ufficiali di EDS Georadar, che è una società italiana che progetta, produce e distribuisce in tutto il mondo sistemi radar per il controllo strutturale e per la ricerca dei sottoservizi. Il gruppo EDS Georadar appartiene oggi a un mondo molto più complesso che quello del gruppo Hexagon, di cui per esempio fa parte anche il gruppo Leica e altre società che si occupano di geosystem in tutto il mondo. EDS produce due linee di prodotti radar, che sono i Georadar o GPR, Ground Penitrating Radar, che servono per fare delle vere e proprie ecografie del sottosuolo o delle strutture, quindi per un controllo delle strutture, per capire cosa c'è all'interno della struttura, o per la ricerca classica dei sottoservizi, che oggi è il mercato più grosso per questo tipo di strumenti. L'altro tipologia di radar è invece un interferometro che serve proprio per andare a misurare gli spostamenti e le vibrazioni delle strutture che noi andiamo a illuminare con questo tipo di strumento. Ora i due radar sostanzialmente di base fanno la stessa cosa, cioè mandano onde elettromagnetiche, quando queste onde elettromagnetiche raggiungono l'oggetto che noi vogliamo controllare o trovare, parte di queste onde vengono riflesse e noi andiamo a studiare queste onde che registriamo e possiamo elaborare. Le applicazioni per questi tipi di radar sono, abbiamo detto oggi il mercato più grosso è quello per i Georadar tradizionali, quello della ricerca dei sottoservizi, ma ci sono varie applicazioni che poi, soprattutto riguardanti l'ingegnere civile, dei trasporti e il monitoraggio strutturale, che stanno sempre più prendendo piede, proprio perché il controllo e il monitoraggio delle strutture oggi diventa sempre più importante, compreso anche il monitoraggio di frane, che in Italia oggi rappresenta un argomento di molto interesse. Quindi quello che vi faccio vedere oggi e vi cercherò di spiegarvi è cosa sono gli interferometri, come e dove possono essere applicati. Quindi la prima introduzione sarà proprio teoria, cioè cercherò di farvi capire come funzionano questi tipi di strumenti e dove possono essere, in quali ambienti possono essere applicati in base al modello che sceglieremo. Quindi abbiamo detto che noi utilizzeremo a tutti gli effetti un radar. Abbiamo detto che un radar emette attraverso un'onda, un'antenna che trasmette un'onda elettromagnetica, quando quest'onda colpisce un oggetto, parte dell'onda viene riflessa e parte dell'onda viene ritrasmessa o riflessa in altre direzioni. Quest'onda riflessa dall'oggetto che torna all'antenna ricevente, noi possiamo registrarla. Per un georadra tradizionale ci interessa il tempo di andata e ritorno di quest'onda, perché se io conosco la velocità delle onde nel mezzo che stiamo indagando, quindi che può essere aria, terreno o calcestruzzo, noi se sappiamo il tempo che ce lo misura lo strumento e abbiamo la velocità delle onde in quel materiale, conosciamo la posizione dell'oggetto. Però quando noi parliamo di interferometria non ci interessa tanto il tempo di andata e ritorno dell'onda, ma quanto meno ci interessa di più sapere la fase dell'onda che noi trasmettiamo. Cioè l'interferometro si dice che è uno strumento a memoria di fase dell'onda, cioè io manderò un treno di impulsi di onde elettromagnetiche e di questi impulsi interesserà misurarne la fase. Quindi come funziona lo strumento? Io mando una prima onda elettromagnetica e quando la struttura, l'oggetto o la frana che sto illuminando riflette quest'onda, io ne registrerò l'onda, ma di quest'onda mi interesserà sapere e tenere in memoria la fase. Cioè succede che se lo scenario che sto illuminando o l'oggetto che sto illuminando si è spostato nel tempo, quando andrò a colpire questo oggetto con un'onda elettromagnetica e ne registro l'onda riflessa, quello che è andato a cambiare è che cosa è la fase dell'onda. Quindi andrò, grazie alla differenza delle fasi delle due onde registrate, potrò calcolarmi di quanto si è spostata la struttura o la frana che sto studiando. Quindi è molto importante conoscere lo scenario che noi andiamo a illuminare, lo strumento che stiamo utilizzando e per lo strumento la cosa più importante è conoscere la lunghezza d'onda del segnale che stiamo utilizzando. Questo lambda proprio ci dice la risoluzione dello strumento che per un radar tradizionale, quello che si usa per i controlli statici e dinamici delle strutture, la lunghezza d'onda è di circa 17 mm. Quindi questo è il primo concetto di base. Dentro la lunghezza d'onda ci sta il concetto di risoluzione dello strumento e anche il primo limite di questa tecnologia, perché quando noi parliamo di tecnologia dobbiamo sapere quali sono i vantaggi, ma anche i limiti dell'applicabilità. Perché se uno strumento è capace di campionare fino a 200 Hz, o comunque di andare a colpire la struttura, quindi a registrare tanti segnali, devo capire se come questo strumento fa riesco a mandare fino a 200 segnali al secondo, devo capire quanto e come la struttura si può muovere. Cioè questo è uno strumento che può misurare movimenti veloci o movimenti lenti. Quindi un interferometro per la risoluzione che ha e per le capacità di memoria di fase è uno strumento che può misurare delle variazioni di spostamento lenti. Cioè nella risoluzione che noi guardiamo, legata proprio alla lunghezza d'onda, possiamo dire che se una struttura si muove più di 4 mm, in un secondo, noi rischiamo di perdere l'informazione sulla fase, cioè andiamo in ambiguità di fase, e quindi non riusciamo più a capire o a inseguire lo spostamento della struttura che stiamo indagando. Quindi questa è la prima informazione che possiamo mantenere, cioè tenere come informazione da questo tipo di corso. Lo strumento può essere utilizzato sia per indagini statiche, quindi per fare delle classiche prove di spostamenti lenti, ma anche per fare anche indagini dinamiche, perché il sistema può campionare, se volete, oppure mandare segnale fino a 200 volti al secondo, quindi posso andare anche a fare delle prove dinamiche sulle strutture. Quindi questi i primi concetti. L'altro concetto, quindi capire invece come la tecnologia può essere applicata, è il secondo passo. L'interferometro quindi emette delle onde speriche nella direzione di vista, si dice, cioè emetto un segnale che dallo strumento va verso lo scenario che noi vogliamo individuare e lo spazio davanti allo strumento può essere diviso in tante aree, o se volete in tanti piccoli volumi. Ogni singolo volume elementare si chiama range bin e questo range bin è indipendente dalla distanza, cioè lo spessore di questa fascia, di questa fascia spaziale, chiamiamola, o di volume elementare, è sempre costante indipendentemente dalla distanza dell'oggetto dallo strumento. Questo spessore di range bin è legato dalle leggi nazionali, cioè c'è un limite di bando utilizzabile per tutti gli strumenti, questo vale anche per i classici sistemi Wi-Fi che abbiamo anche in casa, la bando utilizzabile all'interno di una nazione è limitata da delle leggi e per quanto riguarda l'Italia il nostro range bin può avere un limite massimo, di 75 centimetri, cioè lo spazio davanti allo strumento può essere diviso in tante fette, chiamiamole pure fette, di spessore 75 centimetri. Quindi se all'interno di ogni singola fascia ho un oggetto che riflette, e quindi per riflettori noi diciamo che gli oggetti che riflettono diciamo che sono quelli che hanno degli spigoli vini oppure per quanto riguarda per esempio la torre che vediamo qua nell'immagine, le saldature o i passaggi tra un elemento strutturale e l'altro che comunque creano una discontinuità, quelli sono dei riflettori naturali che riflettono molto bene il segnale elettromagnetico. Quindi se all'interno di ogni singola fascia abbiamo un elemento che riflette, noi ne possiamo misurare l'onda riflessa data proprio da questo oggetto che riflette. Quindi su uno schermo del nostro computer che cosa avremo? Avremo un grafico di riflettività dello scenario che stiamo illuminando con lo strumento. Quindi avremo un grafico dove avremo sull'asse X la distanza e questo grafico sarà diviso in tante fasce da 75 cm l'una. Se all'interno abbiamo detto di queste fasce c'è un oggetto che riflette, noi vedremo un picco e la sua riflettività, cioè la sua capacità di riflettere onda elettromagnetica sarà tanto maggiore e naturalmente tanto più questo picco sarà alto. Quindi noi dovremo andare a cercare di illuminare il nostro scenario e avere degli oggetti che riflettono il più possibile, cioè posizionare lo strumento in modo che l'oggetto che noi vogliamo studiare rifletta il meglio possibile. Qua c'è stato alto limite dello strumentazione, cioè se all'interno del mio range beam, cioè della mia fascia, ho un oggetto solo che riflette, molto bene riuscirò a inseguirlo in modo perfetto, cioè andare a vedere nel tempo come si sposta. Se all'interno della stessa fascia ho più di un oggetto che riflette, purtroppo vedremo la media degli spostamenti di questi due oggetti. Non potrò dire con certezza quale dei due oggetti sto illuminando, cioè non so dire dei due quale si sta spostando effettivamente. Quindi questi strumenti fanno molto bene per studiare oggetti che hanno, diciamo, sono lineari, quindi molto lunghi e stretti. Quindi vanno bene per lo studio di ponti, vanno molto bene per lo studio di torri, ma non vanno bene per studio di strutture, diciamo, tridimensionali. Quindi quando il mio oggetto ha due facce, come in questo caso qua, io vado a illuminarlo con il mio interferometro, se all'interno della mia fascia ho più di un oggetto, come in questo caso qua, non saprò dire da quale dei due punti arriva lo spostamento che sto guardando. Quindi l'interferometro fisso va bene solo per lo studio di strutture lineari. Quindi quando io mi faccio, vado a posizionarmi sotto un ponte, quello che io riesco a ottenere è una cosa di questo tipo, cioè riesco ad andare a illuminare il mio ponte su diversi punti. E potete vedere sotto l'accuratezza che ho con questo tipo di rada. Cioè riesco ad avere l'accuratezza del centesimo di millimetro nei primi 250 metri di distanza dallo strumento. Naturalmente lo strumento deve essere posizionato in modo intelligente rispetto alla struttura perché io possa studiarla in modo ottimale. Quindi il poter illuminare più punti possibili della struttura è fondamentale. Quindi posizionarsi in modo corretto è fondamentale. Proprio perché io devo riuscire a avere un oggetto che riflette, un unico spigolo diciamo che riflette per ogni avere un solo spigolo per ogni range beam che abbiamo detto prima. Possiamo andare fino a circa un chilometro di distanza con questo strumento perdendo un pochino di risoluzione o di accuratezza. La cosa importante è che l'operatore possa capire in modo univoco qual è lo spigolo o l'oggetto che sta riflettendo. Questo nel seguito alla presentazione capiremo meglio come si può fare. Andiamo oltre, cioè cerchiamo di capire come da una risoluzione 1D perché noi abbiamo la risoluzione solo nella linea di vista. Possiamo migliorare o cambiare l'applicazione di questo strumento. Cioè se io riesco a posizionare la mia testa radar su un binario o su una testa rotante si dice che vado a spostare lo strumento e a simulare un'antenna molto più grande. In realtà noi il fatto di usare o di utilizzare un'antenna molto più grande non ci interessa più di tanto. ci interessa il fatto che noi stiamo utilizzando un radar in modalità SAR muovere lo strumento su un binario e quindi illuminare uno stesso punto da più punti di vista del radar cioè vedere lo stesso punto da più punti di vista introduce non solo una risoluzione nella direzione di vista del radar ma anche una risoluzione angolare cioè introduciamo un'altra risoluzione o se volete un'altra diciamo direzione di controllo o di studio cioè io riesco in questo modo a dividere il mio scenario non più in fasce di 75 cm l'una di spessore ma introducendo questa risoluzione angolare di dividere il mio scenario in verie e proprie aree o se volete pixel possiamo anche chiamarli pixel la dimensione di questa area dipende dalla distanza dello strumento rispetto allo scenario che stiamo illuminando quindi lo spessore del nostro range min rimarrà abbiamo detto sempre costante quindi 75 cm invece l'area e quindi questo tipo di dimensione questa dimensione qua varierà naturalmente con la distanza dello strumento dallo scenario che vogliamo studiare quindi la nostra cella di risoluzione non è più una fascia ma è diventata un vero e propria area una cella che ha come ho detto una dimensione fissa più una dimensione variabile in base alla distanza se facciamo un esempio a un chilometro di distanza questa quest'area ha uno spessore di 75 cm per circa 4 metri e 3 di larghezza ora naturalmente sempre col solito centesimo di millimetro di accuratezza quindi abbiamo detto che abbiamo introdotto cioè abbiamo applicato la tecnologia SAR che oggi si usa anche da satellite da più anni rispetto all'interferometro terrestre stiamo applicando una tecnologia SAR a uno studio della diciamo delle delle del territorio in questo caso o delle strutture perché questo tipo di tecnologia viene usata quasi esclusivamente per il controllo di grosse strutture quali dighe o per il controllo di frane che diciamo è l'ambito in cui lavora al meglio quindi noi riusciamo andare a illuminare la nostra area abbiamo detto e dividerla in tanti aree quindi abbiamo siamo passati da una risoluzione 1D a una risoluzione 2D naturalmente questo strumento però misura sempre uno spostamento nella direzione di vista quindi se io volessi proiettare o capire in modo preciso qual è la zona in cui sta effettivamente avvenendo lo spostamento il suggerimento è sempre quello di appoggiare la nostra immagine 2D che noi otteniamo da questo tipo di strumentazione e appoggiarla o se preferite un verbo un po' più simpatico spalmarla su un rilievo digitale che possiamo ottenere tranquillamente oggi con dei laser scan oppure con dei drone quindi noi possiamo appoggiare il nostro dato interferometrico su un dato su un rilievo digitale che oggi è abbastanza semplice da realizzare e da sovrapporre a un dato radar faccio vedere anche in questo caso l'accuratezza di questo tipo di strumentazione che ha circa un chilometro di distanza sempre il nostro decimo di millimetro se andiamo molto più lontano con questo strumento possiamo arrivare fino a 4 chilometri di distanza con una soluzione di un millimetro naturalmente la nostra area di controllo sarà molto più grande quindi come funziona lo strumento lo strumento montato su un binario lo percorre e diciamo lo strumento percorre il binario che è lungo circa 2 metri lo percorre circa in un minuto e andiamo a coprire o illuminare lo scenario di nostro interesse quindi noi riusciremo a fare un'immagine SAR ogni circa 2 minuti quindi se all'interno di questi due minuti la struttura tornando ai limiti che dicevamo all'inizio se la struttura o la 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 trama si è mossa più di 4 millimetri il nostro sistema potrebbe andare in ambiguità di fase quindi abbiamo detto va bene per movimenti lenti ora queste alcune altre dimensioni di celle a varie distanze procediamo ora abbiamo detto prima che la la tecnologia SAR può essere utilizzata o quindi il sistema può essere posizionato su un binario ma abbiamo detto anche su un treppiede rotante quindi se noi andiamo a utilizzare un sistema sempre interferometrico su una su un treppiede che gira quindi abbiniamo alla risoluzione nella direzione di vista una risoluzione anche in questo caso angolare quindi lo strumento continua a girare o ruotare sull'asse e noi andiamo ad ottenere delle celle molto più piccole perché molto più piccole perché per utilizzare questo strumento dobbiamo cambiare anche testa radar e quindi utilizzare una testa radar con delle frequenze molto più alte e aumentare la frequenza del segnale elettromagnetico che noi utilizziamo implica anche o ha il favore anche di avere un range bin molto più piccolo quindi quando noi andremo a visualizzare adesso poi vi faccio vedere qualche applicazione di questo tipo di sistema il range bin di questo sistema che ha una frequenza intorno ai 70 gigahertz ha un range bin che ha una risoluzione di circa 20 cm se ci mettiamo a 100 metri dalla struttura che noi vogliamo monitorare la nostra area di controllo avrà una dimensione di circa 40 cm per 20 cm questo strumento che quindi è un arc SAR quindi ruota sull'asse è molto indicato per lo studio di strutture sempre stiamo parlando di un interferometro di strutture 2D è una distanza non eccessiva in questo caso aumentando la frequenza andiamo a scapito della distanza nel senso che la distanza massima indagabile o lo scenario può stare a una distanza massima dallo strumento di circa 800 metri però questo è uno strumento molto adatto per lo studio quindi delle strutture movimenti sempre lenti di strutture e anche se volete di gallerie di può essere applicato su frane e altre applicazioni che adesso poi vedremo l'ambiguità di questo sistema che è a più alta frequenza è di un millimetro quindi lo strumento andrà a fare una scansione della struttura o dello scenario che vogliamo illuminare ogni 30 secondi o un minuto dipende dalla dimensione dell'area che stiamo indagando e l'ambiguità di fase è di un millimetro quindi se all'interno di quei 30 secondi la struttura si muove più di un millimetro noi andiamo in ambiguità di fase e non potremo ricostruirne l'andamento nel tempo vediamo alcune applicazioni e le dimensioni delle aree che stiamo guardando quindi alcune delle celle possono avere questo tipo di dimensioni quindi lo 0,2 che è fisso per 20, 40, 80 centimetri in base alla distanza dello scenario rispetto allo strumento la distanza massima come dicevamo prima per questo tipo di strumento è di 800 metri quindi questi sono i tre possibili strumenti oggi utilizzabili o che potete trovare in commercio per il monitoraggio delle strutture il primo sistema con le risoluzioni 1D è un sistema che può fare dei controlli statici e dinamici delle strutture gli altri due prodotti che quindi sono dei SAR a tutti gli effetti uno che gira su un binario e l'altro gira su un asse possono fare invece dei controlli o dei monitoraggi di spostamenti lenti quindi questa è l'introduzione quindi la teoria di base che ci sta dietro o quello che dovete sapere di base quando andate a parlare o di interferometria quindi adesso vediamo qualche tipo di applicazione quindi abbiamo detto che l'interterometro base quello quindi che è una risoluzione 1D può essere utilizzato per un controllo in remoto di spostamenti di vibrazione delle strutture adesso vediamo alcuni casi più semplici nel senso il caso di ponti e di torri che sono diciamo le strutture più adatte a questo tipo di strumentazione ok lo strumento è molto semplice da utilizzare ha un treppiedi una testa radar che è questo oggetto giallo che vedete nelle immagini e poi un pc per il controllo del sistema il sistema è remotizzabile nel senso oggi anche con i modem 4G può essere controllato in remoto faccio vedere alla fine di questa presentazione come un nostro cliente è riuscito a monitorare in tempo reale le strutture nel tempo in modo continuativo senza dover essere presente sul cantiere continuamente ok come si fa questo tipo di prova si posiziona lo strumento quando facciamo una prova per un ponte o per una torre si cerca di posizionarsi in modo intelligente rispetto alla struttura quindi quando facciamo una prova per un ponte ci dobbiamo mettere sotto cioè sotto al ponte e sfruttare la trigonometria per studiarne la freccia cioè quando io voglio fare una prova classica di carico su un ponte devo posizionare il mio radar in modo che io possa misurare lo spostamento dell'oggetto nella direzione di vista in base poi alla trigonometria ottenere la freccia di spostamenti verticali quindi quindi lo strumento di solito viene abbinato a un disto laser di alta fascia con cui io posso naturalmente andare a misurare l'altezza dello strumento la distanza dello strumento rispetto alla struttura che stiamo monitorando e per anche capire qual è il punto della struttura che mi sta riflettendo perché se vi ricordate uno dei primi grafici che abbiamo visto era il grafico in cui io avevo la distanza dello strumento e la riflettività quindi se io vado a misurare la distanza dello strumento che la distanza dell'oggetto che riflette che comunque me lo dà il radar ma non ho per capire esattamente qual è il punto sulla struttura che sta riflettendo ho bisogno di un disto per capire qual è l'oggetto sulla struttura e qual è la sua distanza reale dallo strumento cioè non ho un modo una telecamera o un altro modo per capire qual è il punto che sta riflettendo nello scenario io ho solo il picco della riflettività e in base alla distanza di questo picco rispetto allo strumento con un disto posso capire qual è questo punto sulla struttura che mi sta riflettendo quindi non è uno strumento molto intuitivo da questo punto di vista però può essere applicato in modo molto semplice perché se ci mettiamo sotto un ponte poi io sono capace di fare delle classiche misure se io capisco qual è il punto che si sta muovendo della struttura riesco poi a inseguirlo perché poi questo è il classico poi grafico tempo spostamento cioè il classico temistore cioè nel senso vado a vedere come si sta muovendo l'oggetto nel tempo oppure posso andare a farne uno studio dinale eccoci cioè quindi acquisire in modo acquisire a 200 Hz il segnale e registrarne il segnale cioè di come si sta muovendo in modo veloce la struttura e poi andare a fare un'analisi dinamica e quindi frequenza della struttura ok quindi fare la classica e da qui se volete anche la classica analisi modale adesso vi faccio vedere un filmatino c'è una persona che sta camminando su questa passerella e vediamo come lo strumento effettivamente in tempo reale ci dà la deformata cioè la deformazione della struttura in tempo reale quindi è uno strumento capace in tempo reale e anche in modo molto veloce di darci la deformata o lo spostamento della struttura che stiamo studiando faccio vedere dei casi semplici base proprio base qual è la struttura ideale da controllare quando noi abbiamo un ponte che ha degli elementi abbiamo detto che riflettono molto bene e per noi l'ideale è quello dei ponti dove le travi sono a vista e sono regolari cioè io riesco a mettermi sotto al ponte in modo da illuminare il più possibile più elementi ortogonali diciamo allo strumento che stiamo utilizzando e che riflettano molto bene questo è l'esempio diciamo più facile e più intuitivo che possiamo avere cioè la possibilità di avere un ponte con tante travi a vista e avere naturalmente lo spazio libero al di sotto del ponte questo non sempre è possibile perché poi ci sono delle regole della lunghezza dell'elemento e dell'altezza della struttura rispetto allo strumento che sono vincolanti cioè la trigonometria devo riuscire a illuminare inclinare lo strumento in modo che io riesca a visualizzare o a colpire se volete in modo ottimale più elementi strutturali quindi l'altezza dello strumento rispetto alla struttura è fondamentale quindi dei ponti relativamente degli impalcati molto bassi non vanno troppo bene per questo tipo di strumento quindi però ci sono dei ponti molto comodi anche i ponti diciamo ferroviari sono molto comodi da studiare per questo tipo perché non hanno luci non hanno luci molto grandi e le altezze di circa 5-6 metri vanno più che bene per fare questo tipo di indagini abbiamo quindi procediamo faccio vedere come è stata fatta la prova quindi lo strumento è stato posizionato al di sotto del ponte possiamo vederne la posizione qua scusatemi quindi andiamo a illuminare tutte le travi le travi sono regolari e quello che io ottengo è il grafico cioè il famoso profilo range si chiama così questo tipo di grafico lo strumento in origine è posizionato qua vediamo scusate il grafico è ribaltato rispetto alla struttura vedete che però abbiamo la riflettività di tutte le travi quindi che noi abbiamo chiamato ABCD e FGH e abbiamo qua tutti i punti che riflettono in modo molto netto quindi noi riusciamo a dire allo strumento di andare a inseguire tutti i vari picchi e lui nel tempo andrà a farci il nostro grafico di spostamento quindi durante la prova di carico sono stati naturalmente messi i camion sul ponte siamo andati a misurare gli abbassamenti le classiche frecce quindi abbiamo acquisito in tempo reale tutto lo spostamento dei quattro punti in questo caso è BTFH quindi BTFH quindi anche a diverse distanze e abbiamo confrontato i dati anche con dei classici sensori LVDT quindi se noi andiamo a confrontare per esempio il punto B la trave B andiamo a sovrapporre il grafico temporale dell'IBIS cioè dell'interferometro con LVDT vedete che sostanzialmente la misura è la stessa la cosa che aiuta di più potrebbe essere interessante anche quando uso questo tipo di strumento è proprio l'intero andamento della prova cioè riesco a vedere in tempo reale cosa effettivamente succede alla struttura durante tutta l'intera prova cioè l'intera prova di carico ok naturalmente esaminando poi la deformazione massima su ogni singolo punto si può ottenere la classica deformata del ponte ok passiamo ad un altro tipo di applicazione un po' più particolare e dove vi faccio vedere un altro limite della strumentazione perché non sempre quando io sto controllando o monitorando una struttura ho dei riflettori naturali cioè degli spigoli per migliorare la riflessione del segnale elettromagnetico in alcuni casi possono essere posti dei prismi sulla struttura che sono sostanzialmente delle piramidi cave dove il segnale elettromagnetico entra e viene riflesso in modo molto amplificato cioè viene riflesso molto bene quindi quando vogliamo studiare come in questo caso qua la pila di un ponte dove abbiamo degli spigoli naturali ma diciamo poi non abbiamo un riflettore naturale posso andare ad applicare dei corner vedete qui abbiamo il nostro profilo in range con i vari picchi di riflessione e poi siamo andati a studiarne dei quattro punti lo spostamento o l'abbassamento se volete nel tempo quindi questo è il classico grafico tempo spostamento spostamento in millimetri e andiamo a fare la classica prova di carico sulla pila faccio vedere invece un un esame o un'indagine dinamica ho scelto questa è una prova che è stata fatta qualche anno fa su un ponte ferroviario che ha stato diciamo sottoposto a rallentamento dei mezzi ferroviari a causa dell'alluvione del 94 perché non si sapeva lo stato del ponte è stato scelto di fare un'analisi dinamica col passaggio di treni a diverse velocità e anche in frenata riporto qua in questa presentazione solo i dati del passaggio del locomotore a 80 km all'ora lo strumento è stato posizionato in diversi punti su diverse pile di questo ponte riporto solo l'esempio della pila B il sistema IBIS o interferometro è stato posizionato al di sotto quasi in modo verticale rispetto alla struttura al di sotto della trave metallica e siamo andati a studiare la riflessione dell'appoggio quindi della struttura in cemento armato e della trave metallica quindi campionando 200 Hz vedete come riusciamo a registrare un segnale molto definito quindi questo rappresenta già lo spostamento nel tempo quindi non stiamo utilizzando un accelerometro che misura delle accelerazioni naturalmente questo è uno strumento che misura già lo spostamento dinamico della struttura quindi possiamo misurarne non solo l'abbassamento massimo della struttura ma anche un'analisi dinamica del passaggio in questo caso del treno a 80 km all'ora e questa invece è l'analisi dinamica cioè l'analisi di frequenza della della trave metallica scusate della pila in cemento scusatemi invece questa è l'analisi o il segnale registrato dello spostamento della trave metallica e questa è la sua analisi in frequenza quindi possiamo dire quali sono stati gli spostamenti verticali massimi e quali sono le frequenze di oscillazione diciamo questo messo alla principale quella con diciamo densità spettrale maggiore diciamo così ok la frequenza faccio vedere un altro esempio non siamo in Italia questo è un altro ponte metallico molto lungo con una luce molto di quasi 250 metri molto comodo questo è un classico diciamo esempio molto bello da far vedere perché comunque questi sono i ponti dove l'interferometro lavora molto bene questi sono tutti segnali registrati per ogni punto quindi del range bin tutti i segnali registrati nel tempo e questa è un'analisi in frequenza lo stesso strumento può ottenere questo tipo di analisi diciamo dinamica della struttura quindi qua abbiamo il nostro profilo in range e questi sono tutti punti di riflettività cioè che riflettono come si muovono nel tempo quindi come oscilla il ponte nel tempo ecco naturalmente i punti intorno ai 200 metri vedete che sono un pochino ballerini diciamo non sono perfetti alcuni punti andrebbero tolti da questa analisi però diciamo che al passaggio del camion questo è l'effetto cioè l'oscillazione che si ottiene dell'intera struttura naturalmente qua può essere poi studiato solo l'evento o solo lo sborzamento della struttura uno dei punti di forza di questa tecnologia è lo studio dei punti strallati cioè andare a studiare le oscillazioni degli stralli perché è comodo perché lo strumento abbiamo visto è posizionabile in circa 15-20 minuti e se io riesco a posizionare lo strumento in modo da illuminare tutti gli stralli riesco a studiarne lo spostamento o la vibrazione di tutti gli stralli posizionando uno strumento solo cioè quello che voglio dirvi è che con uno strumento relativamente piccolo da portare in giro e molto veloce da posizionare riesco a fare un'analisi di molti stralli con uno strumento solo perché è comodo? perché rispetto a indagini tradizionali che magari conoscete molto bene cioè la difficoltà e il tempo necessario per posizionare sensori tradizionali quindi accelerometri o sensori di spostamento utilizzare un interferometro vuol dire ridurre tantissimo i tempi e i costi cioè ho dei costi molto più bassi sia di personale che di materiali e il tempo necessario per andare o per fare tutta l'attività si riduce di tantissimo cioè non ho la necessità di prendere il mio Bay Bridge che ne so o altri piattaforme andare sul impalcato sul ponte posizionare i sensori cioè riduco il tempo uomo riduco il tempo macchina e tutto quindi il costo di questo tipo di prova è molto limitato e l'altra cosa molto interessante e anche molto comoda è che io sto illuminando degli oggetti che sono in aria cioè non ho ambiguità nell'interpretazione ho come nel caso che vediamo qua tre stralli in aria illuminati con il mio strumento e questo è il profilo in range con tre picchi molto netti che non possono dare dubbi nell'interpretazione quindi vado a seguire i miei stralli in un'analisi dinamica io ottengo degli spostamenti dinamici degli stralli dallo spostamento o dell'analisi in frequenza di questi spostamenti ottengo le varie frequenze e dalle frequenze la tensione degli stralli altre applicazioni molto comode sono le torri abbiamo detto possiamo andare a fare degli studi su torri eoliche paleoliche dove nel nostro caso quello che riflette sono le saldature tra un elemento strutturale e l'altro quindi anche cose molto piccole possono essere degli ottimi riflettori adesso vi faccio vedere un filmato con tutti i picchi di riflessione date dalle saldature naturalmente questa è la parte della pala eolica bisognerebbe farlo naturalmente con pala eolica ferma ma non avrebbe molto senso e questa è la deformata in tempo reale della pala cioè in realtà della torre ok faccio vedere questo gentilmente questi dati dati dell'ingegnere Castagnetti dell'università di Modena in Reggio Emilia questa è una torre campanaria molto interessante perché ha una campana di più di due tonnellate mi sembra quindi il nostro il nostro struttura è sollecitata da una da una campana in movimento quindi andiamo a studiarne il movimento con sollecitazione data dal movimento della campana il sistema è stato posizionato in questo punto e sono stati scelti con i range bin dati proprio dalla riflessione degli spigoli della struttura a diverse distanze quindi questo è lo schema di acquisizione come è stata naturalmente poi la prova è stata fatta confrontando poi i risultati di accelerometri MEMS e di accelerometri PCB noi adesso vedremo i risultati sostanzialmente dell'interferometro naturalmente se io voglio lo strumento abbiamo detto l'interferometro misura direzioni o spostamenti nella direzione di vista quindi non è capace di misurare diciamo spostamenti torsionali diciamo quindi solo nella direzione di vista quindi nell'esperimento dell'università lo strumento poi è stato posizionato in due punti di vista in due posizioni per avere poi un risultato nelle due direzioni diverse questi sono i dati registrati con l'interferometro nei vari punti come vedete un'analisi molto definita un dato molto definito e questo invece è il confronto tra il dato radar che misura già uno spostamento e l'accelerometro classico MEMS posizionato nello stesso punto di misura vedete che sono sostanzialmente simili se non uguali l'analisi dinamica di questi dati è portato a questa frequenza di risonanza della torre di circa 1 Hz e 4 che corrisponde per tutti i punti cioè su tutti i punti i range bin studiati faccio vedere anche questo filmato carino di come si spostano i 5 punti studiati tempo reale al suono della campana perfetto adesso poi vediamo qualche applicazione invece per l'Aidra G questo è l'interferometro che dicevamo prima ha una frequenza molto più alta e quindi una risoluzione in range bin di circa 20 cm e ruota sul suo asse questo è uno strumento innovativo perché abbina alla tecnologia ARCSAR quindi il fatto che lo strumento ruoti sul suo asse anche la possibilità di abbinare al dato radar un'immagine e quindi abbinare uno spostamento a un punto ben definito della struttura che stiamo indagando che essa sia una struttura o una frana quindi la possibilità di aggiungere una telecamera o un laser scanner a questo strumento ci permette di capire meglio qual è lo scenario e qual è il punto nello scenario che si sta muovendo faccio vedere un esempio pratico quindi lo strumento è stato posizionato su una base in cemento questa è la struttura di questi tre palazzi al passaggio di una TBM cioè stanno costruendo una metropolitana al di sotto di questi palazzi e vogliono vedere come si muovono questi palazzi al passaggio della talpa quindi questa immagine che noi vediamo non vediamo più il grafico di prima spazio distanza dallo strumento e riflettività abbiamo un'immagine dove un'immagine classica di una fotocamera possiamo dire e a ogni punto dell'immagine possiamo abbinare il nostro la nostra area che vi dicevamo prima quindi il nostro 20 cm per 40 cm corrisponde ogni singolo punto che noi vediamo sull'immagine quindi possiamo andare a discretizzare ogni singola struttura e quindi ogni punto che voi vedete su questi palazzi corrisponde a un sensore di spostamento quindi l'operatore non dovrà fare altro che selezionare sul campo in realtà noi registriamo tutti gli spostamenti di tutti questi punti però poi io nel grafico andrò a scegliere quali visualizzare quindi scelgo quali di questi punti selezionare come in questo caso triangoli o pallini di vari colori e di questi punti vado a studiarmi lo spostamento nel tempo quindi il nostro classico grafico tempo spostamento ok questa è la serie temporale di questa prova cioè è durato alcuni giorni il sistema è rimasto su quella pedana in calcestruzzo e ogni 30 secondi faceva una scansione dei tre palazzi andiamo nella diciamo nella parte dopo in cui si capisce meglio cosa è successo il primo giorno è arrivato alla talpa purtroppo è stata ferma un giorno per un problema tecnico che nessun spostamento diciamo diciamo anche gli spostamenti sono rimasti sostanzialmente costanti per tutta la giornata nella giornata successiva quindi nella la realizzazione della dello scavo gli spostamenti si sono registrati abbiamo sostanzialmente due palazzi che si sono avvicinati allo strumento quindi quando andiamo in negativo vuol dire che il palazzo si sta avvicinando allo strumento di misura che si sono quindi due palazzi che si sono avvicinati per poi ritornare sostanzialmente al punto di partenza quindi in posizione zero c'è un palazzo che è andato un po' in deriva e si è spostato e si è avvicinato allo strumento più degli altri stiamo parlando di circa 6 mm e quindi grazie allo strumento siamo riusciti a capire di come e quanto le strutture si sono deformate faccio vedere altri casi alcuni casi adesso vedremo solo alcune immagini e poche cose questo è l'intervento che abbiamo fatto dopo la caduta del ponte Morandi a Genova dove sono stati posizionati due interferometri AIDRA sotto il ponte quindi due AIDRA e due interferometri fissi sotto la parte a sbalzo rimasta del ponte e gli altri due sotto l'altra leggerba è rimasta tra i due piloni di questo naturalmente non posso farvi vedere alcun tipo di dato se non il filmato realizzato dai vigili del fuoco che sono arrivati prima di noi sul posto noi eravamo lì il 14 15 agosto il 16 mattina eravamo già operativi questo invece sono i vigili del fuoco che erano già presenti prima di noi sul posto e stavano monitorando il ponte per sapere se si stava spostando e per garantire la sicurezza dei vigili del fuoco nella rimozione dei detriti delle macchine diciamo distrutte e anche per farli lavorare in sicurezza ecco soprattutto quindi vedete lo strumento gira su se stesso e ogni 30 secondi fa un'analisi in questo caso era puntato leggermente basso poi nella stazione fissa che hanno poi degli strumenti posizionati dai nostri clienti con lo strumento riuscivamo a monitorare sia diciamo la parte del ponte che anche che la pila o ok perfetto questo è un grafico temporale degli spostamenti si possono vedere poi i dati possono essere purati perché questi tengono conto anche delle variazioni della temperatura tenendo poi un punto fisso di misura si possono impurare questi dati dagli spostamenti legati alle variazioni meteo diciamo del dato cioè noi abbiamo sempre quando vogliamo fare un monitoraggio di spostamenti c'è sempre una diciamo una deviazione legata alla variazione di temperatura quindi delle condizioni ambientali possiamo poi impurare il dato tranquillamente conoscendo un punto fisso in questo caso tenevamo come punto fisso uno di questi palazzi che sicuramente non si spostava e andavamo a purare lo spostamento diciamo a ripulire lo spostamento del dato dell'interferometro altro tipo di monitoraggio sempre con l'AIDRO quindi l'interferometro NARXAR nel 2018 c'è stato un grosso cedimento nel in questo quartiere Balduina di Roma l'unico sistema in grado di monitorare sia il fronte di Frana che i palazzi sovrastanti in tempo in tempo molto veloce quindi senza posizionare prismi o altri tipi di sensori sulle strutture sulla Frana è stato l'interferometro e quindi è stato posizionato per alcuni giorni per monitorare gli spostamenti sia del fronte di Frana che abbiamo detto che dei palazzi e questi sono l'immagine sovrapposta dell'immagine video e l'immagine interferometrica sui vari punti dei palazzi e gli spostamenti c'è un po' di deriva sostanzialmente quasi tutti fermi tutte le strutture tranne uno di questi palazzi che si è spostato leggermente di circa 2 mm rispetto allo strumento un altro caso in cui abbiamo fornito al nostro cliente Sina gli interferometri per lo studio della Frana sulla 6 di dicembre scorso quindi hanno utilizzato un interferometro fisso per il controllo delle strutture è un interferometro un ARCSAR chiamiamolo per il controllo invece della Frana faccio vedere l'interferometro fisso è stato posto al di sotto dell'impalcato del ponte rimasto in piedi dell'autostrada 6 dove poi è stato aperto quindi per un controllo in tempo reale del ponte rimasto in piedi per garantire l'apertura al traffico nelle due direzioni del traffico e l'interferometro invece diciamo tipo SAR è stato posizionato per lo studio della Frana quindi doppia tecnologia su due applicazioni diverse quindi uno strutturale e uno diciamo geologico per andare a studiare lo spostamento della Frana tutto era diciamo controllato dalla protezione civile che ha dato soglie di allarme infatti se avete seguito un pochino l'andamento di questo cantiere chiamiamolo cantiere l'autostrada è stata chiusa due o tre volte durante soprattutto gli eventi di grosse piogge perché gli spostamenti in Frana erano abbastanza considerevoli ok procediamo diciamo quindi con l'interferometro classico quindi base con l'ARCSAR ho più o meno fatto vedere alcuni esempi adesso vi faccio vedere l'interferometro su binario quindi questo viene utilizzato soprattutto per il monitoraggio abbiamo detto di grosse strutture quali dighe o per il controllo di grosse frane il sistema abbiamo visto può essere utilizzato in sostituzione o abbinato a altri tipi di monitoraggi quindi o con dei laser scanner oppure dei GPS o dei sistemi tradizionali di lettura quali sistemi clinometrici o di spostamenti tradizionali però lo strumento è molto veloce da posizionare e copre aree molto grandi in poco tempo abbiamo detto che la scansione su un binario da due metri dura circa due minuti quindi riesco a dare uno spostamento di grosse aree ogni due minuti questo è molto comodo vi faccio vedere un esempio che è uno dei più interessanti perché copre una frana che è grandissima adesso vi faccio vedere le dimensioni di questa frana in due minuti faccio vedere questa è una frana in America che ha una dimensione di circa quasi 4 km per 300 e lunga circa 4 km per una larghezza di circa 300 metri ecco non abbiamo parlato per le frane che uno dei limiti di questa tecnologia è il fatto che se la frana ha vegetazione lui va in crisi perché naturalmente come il laser scanner anche l'interferometro quando c'è la presenza di piante non riusciamo ad andare a inseguire lo spostamento dei punti abbiamo detto va sostanzialmente in ambiguità di fase quindi questa è una frana su cui può lavorare bene e questa è la mappa dove naturalmente c'erano altri dispositivi come GPS fissi che naturalmente in alcuni casi queste frane GPS poi vengono portati via quello che succede per esempio sui ghiacciai dove si mettono spesso questi tipi di sensori ma poi vengono portati via cioè le mire o i GPS se lo spostamento è veloce o notevole cioè non tanto veloce ma di una quantità grande questi sensori vengono spostati magari vengono persi mentre l'interferometro lavora lo stesso faccio solo vedere e poi concludo la mappa degli spostamenti cumulata in due o tre giorni quindi vedete che quando è verde sostanzialmente la frana è verde se vado avanti nel tempo inizia a muoversi qualcosa qua inizia a diventare un pochino più blu dopo 96 ore abbiamo l'entità dello spostamento queste mappe possiamo fare sia mappe di spostamento che di velocità e naturalmente abbiamo sempre anche l'ampiezza della riflessione anche qua possiamo andare a scegliere quale di questi punti selezionare e andare proprio a monitorarne lo spostamento nel tempo questi sono i classici grafici chiudo facendovi vedere che esistono anche dei sistemi trasportabili molto comodi in Italia si usano poco anzi questi sistemi trasportabili vanno bene per le miniere sostanzialmente nelle miniere in giro per tutto il mondo si usano tantissimo questi tipi di sistemi di monitoraggio concludo dicendo che questi sistemi naturalmente non hanno una grande diffusione nel mercato ce ne sono sono applicabili in casi particolari o in ambienti particolari però come avete visto sono molto comodi e sono molto veloci da installare e hanno un dato molto facile da leggere una volta che io ho coscienza del punto che sto inseguendo a tutti gli effetti è un grafico molto semplice da leggere di spostamento possono essere tutti remotizzabili nel senso possono essere tutti controllabili a distanza possono tutti mandare allarmi in modo automatico ricordandovi quindi i limiti che sono dati dalla velocità di spostamento dell'oggetto quindi non devono essere degli spostamenti troppo veloci per quello esistono altri tipi di radar che sono radar doppler che oggi sono disponibili in commercio che commercializziamo quindi per valanghe molto veloci o per frane molto veloci esistono altri tipi di radar e per finire vi spiego ancora che questo vi ricordo che è uno spostamento 2D spalmato se io controllo una frana quindi non è uno spostamento reale 3D ma uno spostamento 2D quindi non ho lo stesso spostamento 3D che potrei avere con una stazione totale robotizzata però uno spostamento su un'area molto diffusa su grosse aree in pochissimo tempo cosa che con altre tecniche o tecnologie non riusciamo a ottenere quindi spostamenti molto definiti su aree molto grosse in pochissimo tempo con questo concludo vi ringrazio di avermi ascoltato spero di essere stato abbastanza chiaro comunque sono disponibile per essere contattato per rispondere alle vostre domande vi ringrazio ancora alla prossima una buona giornata a tutti grazie